E' stato illustrato questa mattina presso la sede del comune di Gubbio il progetto europeo Plastic Food. Presenti il sindaco Filippo Stirati, l'assessore Alessia Tasso, i promotori, l'artista umbertidese Pierluigi Monsignori, con Isabella Ceccarelli e Andrea Damis, nonché la delegazione dei paesi europei che sono coinvolti. L'installazione di Plastic Food con un forte valore ecologico e sociale del progetto negli anni ha maturato esperienze sia in Italia che in diverse capitali europee, nonché all'estero grazie al conubio tra arte, riuso e messaggio ecologico. Il sindaco Filippo Stirati. Credo che progettare in Europa, con l'Europa, sui grandi temi ecologici per creare ulteriori motivi di sensibilizzazione, di coinvolgimento della cittadinanza e insistere sulla consapevolezza che la salvaguardia ambientale e un'appropriata politica dei rifiuti e alla base di un salto di qualità della nostra organizzazione di vita, credo che sia un obiettivo strategico che dobbiamo darci. È stata scelta Gubbio come unica tappa italiana di questo progetto, come ha spiegato l'assessore Tasso, nato con la volontà di sviluppare una consapevolezza e una modalità di gestione diversa del problema rifiuti e del riuso delle materie prime. Questa è una provocazione. Noi lo abbiamo visto esposto nei giorni passati qui in Piazza Grande con l'occasione di un'intervista con Canale 5. È un progetto che vuole far imbattere il cittadino comune nei luoghi che frequenta quotidianamente, abitualmente, in queste installazioni che possiamo chiamare delle vere e proprie ecoballe di plastica. A seconda della reazione che il cittadino ha, che principalmente è una reazione di shock, il progetto vuole mira a smuovere le coscienze e a far riflettere i cittadini, anche più giovani, sulle abitudini che teniamo quotidianamente. Abbiamo costituito un apposito ufficio per bandi e progetti europei per intercettare risorse e sviluppare strategie internazionali, ha affermato ancora l'assessore Stasso, soprattutto in tempi di forti difficoltà di bilancio. Invece l'artista ha spiegato le ragioni della sua arte. I progetti europei credo che siano un valore aggiunto non indifferente, sia per la popolazione ma anche per i nostri figli, perché se noi riusciamo a riprenderci il nostro orgoglio di essere cittadini europei, questo è un beneficio a vantaggio di tutti. Ed è importante, proprio in questo momento, in cui l'Europa deve tenere duro, deve stare unita per preservare quella che è la nostra tradizione. E Gubbio è, credo, una delle città in Italia più importanti, con Piazza Grande, una delle piazze più belle d'Italia, con le sue tradizioni, va preservata e va conservata per i nostri figli.